Nonostante le difficoltà, ha riscosso un buon successo l'evento organizzato in Piazza Elena per festeggiare il Capodanno. Gli organizzatori infatti hanno dovuto ridimensionare lo spettacolo previsto a causa di alcuni problemi tecnici legati soprattutto alle condizioni climatiche che si sono registrate nella giornata del 31 dicembre, con la neve che ha bloccato un po' tutta la Sicilia. I ragazzi di Radiobattente hanno comunque salutato il 2014 e accolto il 2015 insieme ad un migliaio di persone. La gente, nonostante le temperature alquanto basse, ha deciso ugualmente di scendere in piazza e muniti di cappellini, sciarpe e guanti, ha brindato al nuovo anno dal centro storico licatese. L'evento, previsto per la notte di Capodanno, verrà comunque svolto così per come era previsto originariamente il 5 gennaio, sempre in Piazza Elena. Grazie a tutti.